Tragedia in mare a Lavagna, un operaio muore, l'altro è gravemente ferito, stavano operando nell'impianto di maricoltura. Stato di emergenza per il maltempo, ripulire i litorali, stanziamenti per il ripascimento delle spiagge. La stessa elevante Natale è iniziativa di solidarietà, un gesto di luce. Nel presepe a Conscienti ricostruiti i borghi delle Cinque Terre. Buonasera ai telespettatori di TGT Guglio, iniziamo questa edizione con la cronaca. Tragedia in mare questa mattina a Lavagna alle 11. Un operaio muore, un altro rimane gravemente ferito. Stavano operando all'impianto di maricoltura. Vediamo i particolari. Tragedia in mare questa mattina a largo di Lavagna, intorno alle 11. Un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Nel tratto di mare compreso, tra Lavagna e Cavi, dove sono posizionate da anni le vasche dell'acquacultura che si occupa dell'allevamento dei pesci. Secondo le prime informazioni, i due operai erano intenti a lavorare intorno all'impianto, con l'ausilio di altri colleghi e di sommozzatori, in seguito alle ripercussioni sulla posizione delle stesse vasche colpite dalla forte mareggiata da sud-sud-ovest che ha colpito il TGT Guglio nella giornata di lunedì scorso. All'origine della disgrazia venuta su una chiatta ci sarebbe il vericello di una gru che avrebbe agganciato il primo operaio che sarebbe finito in mare, mentre il secondo è rimasto gravemente ferito alle gambe. Immediati soccorsi allertati dai compagni di lavoro. Sono intervenuti i mezzi della guardia costiera e dei vigili del fuoco di Chiavari. Il corpo della persona deceduta e del ferito sono stati trasferiti a terra. Sulla banchina del porto di Lavagna erano già stati allertati il 118 TGT soccorso delle ambulanze della Croce Rossa di Cogorno e della Croce Verde Chiavarese. Il medico non ha potuto che constatare il decesso dell'operaio e dopo le prime cure il secondo operatore marittimo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di San Martino. In corso le indagini da parte dei carabinieri di Sessi Levante coordinati dalla Procura della Repubblica di Genova. Un'altra notizia di cronaca, questa volta dalla Fontana Buona. La notte scorsa i vigili del fuoco di Genova Est sono intervenuti in località Rossi, frazione di Lumarzo, per l'incendio di un'autovettura. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Per estinguere l'incendio si è dovuto ricorrere al liquido schiumogeno. Stato di emergenza per il maltempo dopo le grandi piogge di lunedì scorso, il mare in Burrasca con venti da sud e sud ovest, con gravi danni litorali. La regione ha fatto un primo stanziamento per quanto riguarda il ripascimento delle spiagge. Vediamo i particolari. È stato utilizzato dalla Giunta regionale lo stato di emergenza dopo i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi. Lo ha comunicato l'assessore regionale a difesa del suolo Giacomo Giampedrone, il quale sostiene che è un primo passo rispetto ad un'eventuale richiesta dello stato di emergenza nazionale, che ci permette però di attivare procedure di urgenza e più snelle per consentire ai comuni di ripristinare i danni che hanno avuto a partire dalla rimozione del materiale linio e degli abbrucciamenti. È in corso la fase di computo dei danni che si concluderà entro 15 giorni, quando i comuni comunicheranno lo stato dei fatti e solo allora si potrà capire se richiedere lo stato di emergenza nazionale. Nel frattempo il Presidente della Regione Giovanni Totti ha firmato il decreto per lo stato di emergenza regionale che consentirà di attivare le accise nel caso fosse necessario. L'obiettivo, conclude l'assessore Giampedrone, è quello di ripristinare al più presto il litorale, anche per far fronte al prossimo arrivo dei turisti in vista delle festività natalizie. La seconda notizia è l'erogazione di 1.193.000 euro a 57 comuni di Guri per il ripascimento delle spiagge. Sono stati stanziati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore Aldemani o Marco Scaiola, come anticipato dal Presidente Totti nel corso dell'ultima ondata di maltempo con mareggiate che hanno eroso ampi tratti di litorale. I comuni appartenenti alle città metropolitane di Genoa sono 15 e precisamente Arenzano, Bogliasco, Camogli, Chiavari, Cogoleto, Genova, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rappallo, Recco, Santa Margherita, Ligure, Sesti Levante, Sori e Zoagli. Una notizia che riguarda la viabilità del nostro comprensorio, lavoro in corso per una frana di pietra e materiale roscioso sul versante monte della provinciale 77 di Boasi in comune di Lumarzo e cedimenti della careggiata sulla provinciale 56 di Barba Gelata. Sono le conseguenze della pesante ondata di maltempo di lunedì durante l'alerta a meteo. La città metropolitana di Genova ha subito iniziato i primi interventi per quanto riguarda anche le limitazioni del traffico. Il senso unico alternato è in vigore sulla provinciale 56 di Barba Gelata nel tratto fra il chilometro 14,95 e 15 e anche sulla provinciale 77 di Boasi tra il chilometro 8,650 e 8,650 si transita sempre a senso unico alternato. Torniamo in Riviera, precisamente a Sesti Levante con un'iniziativa di carattere benefico che si svolge ogni anno in occasione delle feste natalizie e si tratta del gesto di luce. Come ogni anno è partita l'iniziativa di solidarietà alla luce di un gesto che promuove e sostiene progetti sia a livello locale che a livello internazionale. Ha permesso di raggiungere risultati molto soddisfacenti negli ultimi dieci anni con una raccolta di oltre 246 mila euro a sostegno di 43 progetti, la maggior parte dei quali riguardanti situazioni di povertà, di autonomia femminile e assistenza ai bambini. Un grande risultato reso possibile grazie alla generosità della cittadinanza sestrese, al contributo dell'amministrazione comunale e anche alla creazione di una rete sempre più florida tra associazioni, privati, parrocchie che hanno promosso iniziative a favore del progetto che è stato sostenuto anche quest'anno dal Comitato Promotore la luce di un gesto. Con attenzione particolare è stata riservata al CON, il centro di distribuzione unico con sede a San Bartolomeo della Ginestra, frazione di Sesse Levante, che dal 2015 cerca di soddisfare le necessità di tanti nuclei familiari che non riescono a sostenersi autonomamente. Verranno sostenuti anche due centri di ascolto cittadini, uno con sede in Sant'Antonio e l'altro a San Bartolomeo e inoltre il progetto Colorando la speranza in favore dell'infanzia abbandonata in Romania, in collaborazione con l'associazione di volontariato No Profit Cuore per Cuore, in continuità l'anno scorso. In particolar modo si sosterà la casa di famiglia di Macin che accoglie minori dai 3 ai 16 anni, sia residenziali che per il solo pomeriggio. Ospita attualmente una ventina di bambini, quasi tutti senza genitori, che sono emigrati e quindi affidati alle nonne e ai vicini di casa. Per chi desidera è possibile effettuare direttamente entro il 28 febbraio del prossimo anno un versamento all'Agenzia della Banca Carigie, Agenzia 143, con codice IBAN IT40 V061 7532 2300 0000 1177 880 intestata all'associazione La Baia delle Favole, che si mette ogni anno a disposizione come tesoriere con la causale La Luce di un gesto. Come tradizione, domani a Chiavari è cerimonia del Confergo per la 27esima volta consecutiva. Il programma organizzato dall'associazione culturale Castello prevede la partenza del corteo storico da Piazza Mandisini, l'antica Ciasa di Coi, alle ore 15, con conclusione alle 16.15 a Palazzo Comunale in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Parteciperà la Filsarmonica di Chiavari, il gruppo musici e sbandieratori, il gruppo Flost Duoletaro nel Sestieri di Lavagna, le associazioni cittadine sportive e di volontariato. Ci saranno le tradizionali maschere Rebello e Rebellum, gli auguri con il Sindaco Marco Di Capo da parte del Governatore Mino Sanguinetti, verrà tratto un bilancio annuale. Verrà anche premiato il circolo fotografico del dopolavoro ferroviario di Chiavari e una targa sarà consegnata anche al Sindaco. Altra iniziativa, questa volta in Fontana Buona, il tradizionale mercatino di Natale a cura della Proloco di San Colombano Certendoli, presso la tensa struttura del circolo Acli dalle 10 alle 19.00. In tema di iniziativa, un occhio di riguardo per i presepi e questa volta ci occupiamo di quello di Conscenti dove un appassionato residente del borgo antico della Val Graveglia ha ricostruito proprio i borghi delle Cinque Terre. Vediamo. Una bellissima ricostruzione dei paesaggi delle Cinque Terre costituiscono il felice soggetto del presepe allestito in un locale della piazza del municipio di Conscenti di Nè. Qui si vive veramente la magia del Natale, grazie ad un lungo lavoro di ambientazione dei paesi. E proprio i nuclei abitati sono i protagonisti con la loro collocazione sulle colline che dal mare salgono in alto e un omaggio a una delle terre più belle del mondo che Adriano Ruggero, un abitante della valle, ha voluto fare per la festa di Natale 2017 un ideale regalo agli abitanti della Val Graveglia che hanno gradito e stanno visitando la natività. Colpiscono i colori, la collocazione ambientale, il buon gusto, una scenografia dove nulla è lasciato al caso. Ruggero è stato meticoloso nel ricostruire terrazzamenti dove l'uomo è andato a rubare terreno alla montagna per trovare posto utile da destinare ai vigneti. Non mancano le chiese, i piccoli borghi, la spiaggia con i pescatori e le loro barche, un'altra grande risorsa delle cinque terre. L'autore ha autorizzato i materiali tradizionali come il sughero, le pietre, la carta dipinta con la quale sono state modellate le colline che circondano la zona e poi le statuine con la natività, la vita di tutti i giorni che scorre sulle stradine che vanno in salita. Osservando il presepe da ogni angolatura sembra che qui il tempo si sia fermato per raccontare come una volta si svolgeva la vita di questo territorio con le donne che acudivano le faccende domestiche ma andavano a comprare nei piccoli negozi mentre gli uomini si dedicavano alla pesca e alla coltivazione della vite e degli ortaggi. Presidente Gozzi, subito dopo aver preso atto dei limiti lei è ritornato immediatamente a sognare e ha detto si sogna, si sogna un campo, si sogna un qualcosa che possa dare a Chiavari un altro respiro oltre a quello che il campo comunale sta dando. I sogni sono due, uno ancora più importante dell'altro, il più importante è quello di un centro sportivo noi viviamo di settore giovanile, stiamo innalzando la qualità del lavoro e quindi dei risultati del settore giovanile questi risultati significano formazione di calciatori che sull'esempio di altre squadre penso all'Empoli, consentono poi al bilancio societario di godere di plusvalenze che mettono il bilancio in equilibrio questo sarebbe importantissimo perché immediatamente ci sarebbe un'enorme crescita della qualità del nostro lavoro. Sindaco di Chiavari, questa sera gli auguri del settore giovanile della Virtus Entella ha fatto una considerazione che riguarda una progettualità della sua amministrazione quella di mettere mano a un ripristino di questa realtà dei campi sportivi in colmata? Sì, domani approviamo il bilancio del comune di Chiavari in consiglio comunale ho previsto per l'anno 2018 400 mila euro per rifare il campo qua in colmata mi era stato chiesto appena eletto sindaco ai primi di luglio di svolgere i lavori riutilizzando il manto del vecchio comunale però avrebbe creato grossi problemi perché i tempi delle gare pubbliche sommati all'inizio del campionato avrebbero creato problemi per cui abbiamo deciso di fare adesso, di metterci soldi nel 2018 partire con le gare pubbliche così i lavori possono iniziare quando termina la stagione di tutti questi ragazzi. L'altro sogno, ancora più grosso, ma sono reduce da una visita a Frosinone quindi mi è venuta spontanea, è quella di uno stadio di proprietà perché le due cose che fanno stare in piedi i bilanci delle società di calcio sono un vivaglio importante e quindi gli strumenti di centro sportivo per fare un vivaglio importante e lo stadio di proprietà. Uno stadio di proprietà a Chiavari sarebbe un'attrazione, uno stadio di proprietà naturalmente moderno, con strutture connesse, annesse farebbe diventare Chiavari e la riviera di Levante un luogo magico ecco pensate che cosa potrebbe dire guardare una partita di serie A in uno stadio che ha la curva che guarda a Portofino insomma non ce n'è tante cose così nel mondo. Potremmo studiare insomma la questione, sicuramente adesso da risolvere a breve il discorso dell'agibilità del campo attuale perché il terreno, la cosiddetta area a ginocchio che è a monte del campo scade il 20 gennaio il contratto di comodato con il comune e se non venisse rinnovato perderemo l'agibilità. La mia intenzione, come ho già detto, se posso, se troveremo insomma la quadratura con l'attuale proprietà acquisire questo terreno così che un domani si possano svolgere anche progetti futuri di ampliamento del campo e chissà anche un'eventuale vendita. Ringrazio il sindaco innanzitutto per la sua presenza e poi per l'attenzione che ha manifestato anche con questa battuta. Noi ci stiamo pensando da tempo anche perché abbiamo i progetti in tasca del comunale per portarlo almeno a 10.000 nel caso in cui mai si dovesse fare qualcosa di più che la serie B. Il progetto dello Stato di proprietà è un progetto che richiede naturalmente il consenso e il supporto di tutte le forze vive della città, dall'amministrazione comunale, ovviamente a Lentella, agli imprenditori chiavaresi del commercio e del turismo che credo vedrebbero in questa struttura una grande occasione di crescita e di sviluppo. È Luiso Sturla il protagonista di una mostra, evento che però a noi piace definire festa che gli sarà dedicata a partire da domenica 17 dicembre presso Y-Lab a Chiavari. Un incontro, un riconoscimento di Chiavari a Luiso Sturla, che è un chiavarese doc, ma è un chiavarese che è volato lontano. È così Luiso? Ebbè, in parte sì, 50 anni di Milano, anche se le radici sono queste nostre qui, della nostra terra, però la mia vita l'ho trascorsa, la vita artistica l'ho passata a Milano, quella dove correva più sangue. Ecco, che sangue correva a Milano? Intanto di che anno parliamo? Di che anni parliamo? Da sempre, dal 50 che io cominciavo a prendere i primi treni per Milano e che poi ero entrato nel MAC, fino a due o tre anni fa, che abitavo a Milano proprio. Ecco, è che appunto che sangue correva a Milano? Correva un sangue diverso, correva un sangue miteloeuropeo, cioè correva un sangue di incontri, dove potevi conoscere tutta la, si può dire, la poesia e la pittura italiana, perché tutti confluivano in questo bar che era il Giamaica. Il bar Giamaica è stata un'espressione non solo artistica di una certa Milano, ma anche un incontro di tutti quelli che arrivavano dal resto d'Italia e si trovavano al Giamaica. e lì dal Giamaica trovavi il posto per andare a dormire, trovavi il posto dove andare a mangiare per uno che non era ancora abituato alla metropa. Non la definiamo una comune, ma forse lo era. Sì, certo, il Giamaica è stato una grande comune e poi incontravi dei grandi personaggi. Ne hai invidiato qualcuno, Luiso? Ma sai, non potrei, non saprei nemmeno, erano tanti che non saprei nemmeno quali scegliere, anche perché io ti dirò una cosa, io sono un pittore mediocre, mediocre, no. Insomma, adesso non esagerate. Sono un muratore della pittura, ecco, ho tirato tante spatolate di colori al posto della calce, ma anche della calcia, però non ho mai cercato di imitare qualcuno. Cioè, infatti, nel nostro periodo, quello che era importante era trovare una propria personalità. Capisci? Oggi, questo va bene, oggi non esiste più, perché con l'avvento delle televisioni, con tutto il globale che ormai ci è cascato sopra, ormai tutto questo è scomparso. Cioè, la pittura è diventata in secondo ordine ormai, perché tutto il resto è più scenografico, più, come potrei dire, più commerciale, più... Più immediato anche, non frutto di ricerca. Eh, bravo. Invece allora dovevi farti riconoscere, cioè anche da un segno, tu dovevi... Diceva, questo è Sturla, questo è Gwenzi, questo è Kigin, perché se no allora era inutile, allora era inutile andare in una città. Certo, e quando sei arrivato in questa città, in realtà, Sturla, che cosa cercava? Proprio il lavoro di ricerca che hai fatto, ovviamente al tuo interno, no? In quello che volevi dire. L'avevi più o meno identificato, sapevi cosa cercavi o l'hai trovato strada facendo? No, l'ho trovato strada facendo, cioè no. Sul primo... Il primo... Diciamo... Il primo ascolto con Milano l'abbiamo avuto con il gruppo del Golfo, con Lavagnino, con Ugolini e Costa, dove abbiamo fatto una mostra alla B24. Io ero giovanissimo, avevo 23 anni, perché la mostra era del 53, io ero del 30, allora avevo 23 anni. Però era legata già a un'idea precisa, cioè eravamo già partiti da qui con quello che sapevamo, a cui andavamo incontro, a cui dovevamo anche paragonarsi, capisci? Perché lì c'erano artisti già famosi, non so, Palo di Soldati, Palo di Magnelli, Palo di Prampolini, tutta gente che ormai era già in livello europeo, cioè noi non conoscevamo questo. Però ci siamo trovati dentro, ecco, in questo discorso. Quando hai capito di aver trovato uno spazio tutto tuo che si chiamava Luiso Sturla? Ebbè, già lì io ero, avevo una mia personalità, non era proprio legata al MAC, ero un pochino leggermente più surreale io, non era proprio geometria, solo geometria fissa, sai? Ero già con accenti un po' fuori dalla geometria, perché io ripeto, io sia anche Ogolini, sia Costa di più forse, non eravamo proprio pittori del MAC, cioè noi abbiamo aderito al MAC come idea, non rivoluzionaria, ma della pulizia, della pulizia della tela, cioè il togliersi il novecento che c'era sopra, c'è la parte più figurativa. Invece il MAC a me serviva anche perché in fondo era una lezione di designer, capisci? Era nato il primo designer con Munari e allora è stato un movimento importantissimo il MAC, uno dei movimenti più importanti in Italia dopo il novecento, dopo il futurismo, perdono, perché poi il novecento è una stasi, è un periodo in cui non si può quasi nemmeno definire un movimento. Chi ti ha compreso per primo? Eh, compreso, adesso io non mi ricordo più. Non hai un riferimento? Non ho un riferimento perché come ripeto, allora era... Mastro Leonardo. Mastro Leonardo, sì, sì, Mastro Leonardo. Questo che è venuto a Chiavari, questo... Non so, dicono che dipingessi anche, questo non mi risulta, però... Quinta volta mi ha detto, ma lei non lo sa che dipingeva anche, dicono... Lo spirito poi di Luiso è noto. Quanto ti sei portato dietro della provincia e quanto hai messo sulle tele e quanto invece hai dovuto magari anche forzatamente staccare per riuscire a guardare in avanti? Ma sai, ero in continuo contatto tra Chiavari e Milano, cioè allora non abitavo ancora proprio a Milano, andavo e venivo, cioè ero... Mio padre era in ferrovia e mi diceva che si meravigliava di incontrarmi sui treni che andavo, che viaggiavo, che lui non sapeva nemmeno che andassi a Milano magari, però mi incontrava sul treno. Ma ero sempre in contatto con la provincia, cioè... Però il discorso nostro della geometria, cioè del MAC di quegli anni lì, non ha più niente a che fare con la provincia, eh? Siamo usciti fuori dalla provincia, no? Siamo entrati in un altro clima, in un clima più europeo, che prima non si conosceva con la storia della guerra, perché a noi non è arrivata la cultura, per esempio francese, tutti questi pittori geometrici e non della Francia, della Germania, dei grandi artisti che non arrivavano, non erano arrivati qui, perché non avevamo una conoscenza della pittura. Non conoscevamo nemmeno Picasso, l'abbiamo conosciuto dopo la guerra. Ed è stata un'esperienza totale, questa è un'esperienza totale. Totalizzante, ma... Perché? Perché poi siamo andati, quando è finito il periodo del MAC, che il MAC è 48-58, 10 anni, 11 anni. Poi ognuno... è strano anche a dirsi che l'arte ha una data destinata, però è così. E' un'altra cosa, perché in mezzo c'era Firenze, c'è stata una sosta piuttosto grande a Firenze, con la Galleria Numero, dove l'ho conosciuto Evandra, quella che poi è diventata mia moglie, sposandola a New York, e sono andata a New York nel 1960. Sì, quello è un periodo diverso, quello è un periodo appunto che entra già nel clima informale. Finisce l'astrazione, siamo andati alla stazione, abbiamo preso il treno che era più congeniale per noi, e ci siamo ritrovati in un altro mondo, capisci? Un mondo più pittorico, più libero. Io non c'ero più pittore, ero. Luiso, quali sono i lavori di quegli anni ai quali tu sei più affezionato? Hai una scelta e una brutta parola, una selezione tua personale? Non ti potrei dire, perché sai, abbiamo lavorato molto, e bisognava che un'opera fosse più o meno di livello con l'altra, sempre che non fosse scadente, non potrei dirti. Io a New York, per esempio, non potevo portare via dei quadri, delle holly, e ne potevo farne nemmeno là, non avevo lo spazio là. È strano a dirsi, perché in un contesto dove c'erano già i loft, c'erano studi dei grandi maestri, noi italiani non avevamo nemmeno uno studio di una certa dimensione. Per poter lavorare. Per poter lavorare. Ma io ho lavorato, ho fatto una sessantina di carte, 70 carte, che ho portato indietro, arrotolando le ben strette. Dov'è andata la tua opera, quella che è andata più lontano nel mondo? Perché tu ne hai davvero ovunque. No, non sono un pittore esageratamente cosmopolita, no. Però, cosa posso dirti, Argentina, Buenos Aires, anche per le altre due mostre che ho fatto. C'è un'opera di queste che tu rivorresti indietro? Ora io non ti potrei dire, non ti potrei. Dalla quale ti sei staccato con difficoltà, insomma. E' difficile ricordarsi. Sono tutti figli tuoi? Sì, sono tutti figli miei, brava. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Veniamo alla festa, al riconoscimento, perché è stata definita festa questa, che ti verrà attributata. Non è una mostra, è una festa. Allora, questa festa tu come te la vivi? Ma sai, io non lo so, sono un po' frastornato, ti dico la verità. Ma non che sono stato abituato, ne ho avuto delle manifestazioni nell'arco della mia vita. Insomma, negli arco degli 87 anni hai avuto qualche storia, l'hai avuta. Però è una storia particolare questa, perché sai, non so cosa succederà. Allora, non sappiamo cosa succederà, ma sappiamo cosa potremo vedere lì. Che tipi di lavori porti? Allora, ci sono dieci opere stampate, riprodotte su tela, non originali, che vanno dal MAC fino a oggi. Diciamo due per ogni periodo, ecco, non so, 50-60, 60-65, poi l'informale del dopo 65, cioè il periodo milanese, che dopo il ritorno da New York, ho iniziato questo discorso sulla pittura informale, che è andata avanti fino a oggi. E poi più tre quadri, che è una donazione, che io farò lì al YLAB. Ecco, in questi lavori che hai fatto per YLAB, che cosa hai messo? Un Luiso Sturla di oggi? Sì, sì. Più libero, mi dicevi. Sì, più libero, dove veramente si capisce poco, però c'è questo segno nervoso mio, più intrigante. Ti fa un certo effetto che Chiavari ti dedichi a una festa? Sì, veramente questo sì. Ti vedo. Ecco, io voglio coinvolgere un attimo, prima di chiudere, Franco Casoni, al quale ho chiesto di essere qui, perché forse Luiso non dirà di sé alcune cose. Quali sono le cose che Luiso non dice di sé, ma che è importante, che vengano dette? Sempre è stato il suo carattere quello di essere così, un po' scarno, ma allo stesso tempo lui riusciva a dirlo nel dipinto. Però voglio ricordare alla gente le sue esperienze che sono state anche legate alla Liguria, come il periodo quando ha conosciuto appunto i Morlotti, oppure quando eravate sulle Cinque Terre, che hai fatto questi bei dipinti, incendi al Cinque Terre, queste cose che magari... E poi possiamo ricordarlo anche se lui magari le ritiene cose minime, però il periodo che ha fatto anche, quando ha detto che ha dato anche della Calcina, ha fatto due bellissimi locali. Uno era l'Antares 59, che rappresentava per loro una rottura, soprattutto per i Chiavaresi, di vedere un locale che di solito era una balera, invece con dei dipinti che ancora adesso sono importanti, capisci? E poi per noi, lo dico personalmente per me, che sono anche legato, perché poi sua moglie è stata la testimone delle nozze mie, perché lui era in Argentina in quel periodo lì, del 72. Testimone per procura. No, 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 è stata una cosa bellissima, e voglio dire, per noi sapere che un Chiavarese era in Argentina, che tra l'altro esponeva la Williston, che è una delle più grandi gallerie a livello internazionale, poi si è dimenticato di dire che ha collaborato anche con... cioè è stato invitato da Olivetti, quando poca gente veniva invitata da Olivetti, che era questo grand'uomo, questo Adriano, e quindi queste cose per noi faceva, cioè per me, giovane, l'ho sempre ammirato Luiso, poi negli anni 60 ci siamo frequentati, sono stato ospite a Milano, e lì ho visto tutta l'evoluzione, la famosa mostra del Square Gallery, cioè è stata una cosa importante per noi Luiso, quindi io non voglio invadere più il coso, poi voglio dire che come Chiavarese sono contento. Ecco, giusto tributo. Un giusto tributo e devo dire che i quadri che ho visto, gli ultimi, sono veramente di rottura, con del ponte della ferrovia che si vede, e mi auguro che i giovani, quando si dice, guardino questi maestri, perché c'è ancora molto da dire. Grazie, quindi chiudiamo con rinnovare l'invito per domenica 17 alle 17.30 a Wailab a Chiavari, e Luiso saremo tutti lì con te e per te, ti emozioni un po', dimmi di sì. Eh sì, certo, come te l'avevo detto anche prima, è una storia un po' che non si sa da quale parte inizia e come finisce. E noi ci saremo, se mai lo raccontiamo. Viene anche Quinta Valle da Parma, apposta, che non si muove nemmeno a portarlo, però vanno a prenderlo, sono bravissimi. Devo ringraziare anche la famiglia Gozzi che partecipe di tutta questa situazione, soprattutto è l'ideatrice di questa storia, capisci? E' un affetto che loro hanno verso di me, che non sembra avuto e che hanno manifestato appieno. Quindi l'invito è ad esserci perché anche noi ci teniamo a dire che il tuo affetto... Cosa è da dire, ma in 85 anni forse io ho vissuto troppo, capisci? E allora molte cose si sono disperse nel tempo, non le ricordi nemmeno più di quello che è avvenuto, di quello che hai fatto, di quello che... Allora facciamo una cosa, noi saremo presenti il 17 alle 17.30 a WeLab e il resto degli 85 anni, se ripassi un attimo, ce li dici la prossima volta. Grazie. Quell'attimo di gioia è al momento della presentazione. Salvo Agosta, oggi qui nella sala del Banco di Chiaveri, presenterà agli amici e a tutti coloro che hanno accettato l'invito il libro. Che momento è? Un momento molto importante e di grande responsabilità, perché dopo il primo lavoro, che va via più o meno liscio, lo spazio di un abbraccio è andato così, molto bene, molto liscio, uno si trova di fronte a scrivere qualcosa di nuovo e che possa essere interessante, che possa di nuovo entusiasmare il lettore, quindi è un momento difficile. Temi il confronto? Beh, lo si farà il confronto. Sono due libri diversi, anche se poi alcuni temi poi in modo sotterraneo si congiungono, si abbracciano. Quindi è un momento dove gli amici ci sono e quindi al di là del fatto che ti vogliono bene, e se sono qui è per questo, però come presenterà invece il libro all'esterno e dove lo possiamo trovare? Allora, lo possiamo trovare nelle librerie del Tiguglio attualmente, direi, a partire da lunedì, diciamo, magari da domani qualcuno ce l'avrà già. E gli amici, ecco, sono quelli che mi hanno spinto comunque, mi hanno tenuto su e con le loro amichevoli carezze, devo dire, hanno reso possibile anche questo libro, perché il libro è molto segreto questo. Però la segretezza di questo libro ha comunque un conforto di queste persone che sono qua questa sera e che hanno tante storie da raccontare e di cui io parlerò magari senza fare i nomi durante la presentazione. Quindi, quell'attimo di gioia, da domani lo si può prendere e finalmente leggere, perché ci hai incuriosito tutti, ci hai messo sicuramente tutto quello che c'era da metterci dentro. Ti manca qualcosa? No, spero che il pubblico lo apprezzi e lo faccia suo come ha fatto nel precedente romanzo. Cioè, è un romanzo questo da interpretare, da collocare anche, perché ha luoghi indefiniti. Quindi, secondo me, il lettore ha davanti un album tipo di figurine. Diciamo, alcune figurine deve metterle lui. Vi aspetto e poi mi racconterete come le avete messe. Anche questa edizione di TGT Guglio termina qui. Vi lascio alle previsioni del tempo per domani, domenica 17 dicembre e per quelle relative alla giornata di lunedì. Giornata in cui tornerà, come sempre, l'informazione giornalistica alle 12.45 alle 14.15 con TGT Guglio Gente e in serata alle 19.30 alle 22.45 la consueta edizione di TGT Guglio condotta da Gioel Cappello. A tutti coloro che ci hanno seguito, la più cordiale buonasera e buona domenica. Previsioni del tempo per domani, domenica 17 dicembre. Giornata di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Isolate e addensamenti sui rilievi del Levante. Venti settentrionali moderati con raffiche fino a forti, in particolare sui crinali e sul centro della regione. Mare in mattinata mosso a Levante, nel pomeriggio in calo fino a poco mosso. Temperatura sulla costa da 7 a 12 gradi, nell'entroterra da 1 a 7 gradi. Previsioni per lunedì 18 dicembre. Nuvolosità variabile. Venti moderati. Mare poco mosso. Temperatura sulla costa da 7 a 12 gradi, nell'entroterra da 1 a 7 gradi.